La cultura di una comunità cresce quando è un patrimonio saldamente condiviso. Dal 12 dicembre il Comune ha inaugurato una serie di appuntamenti coi protagonisti della cultura in città, occasioni di confronto e di proposta dove l'amministrazione, questa volta rappresentata dall'assessora di Nocera, incrocia le spinte creative e ascolta le esigenze e le idee di chi opera nei luoghi culturali del territorio. Al PAN il primo appuntamento è col teatro, straordinaria risorsa che sarebbe riduttivo identificare Tucur con le grandi produzioni. Napoli è un laboratorio fertile dove si coltiva con passione il teatro di ricerca, soprattutto nei piccoli spazi meno conosciuti dove il pensiero drammaturgico e la poetica della scena si rinnovano di continuo a inseguire e a raccontare il mondo contemporaneo. Il teatro non è omologazione, è sollecitazione, è differenza, è sogno. Ora se queste paroline che sono state paroline di Streller di Anel Müller nel Novecento non possono diventare improvvisamente nel pubblico il teatro della borghesia, laddove per borghesia non si intende nemmeno il teatro borghesia, ma il teatro della borghesia è un teatro perfetto per persone che paghino 90 euro a biglietto. La situazione dei piccoli teatri napoletali è la situazione barricatera del teatro indipendente. La situazione barricatera del teatro indipendente c'è sempre stata. Da un lato è una scelta, da un lato è una costrizione. Quali sono e quali saranno le politiche per il teatro a Napoli e in Campania? Qual è la situazione le prospettive dei luoghi della sperimentazione, degli interpreti, degli spazi fisici dove ogni sera si inventa il teatro? Questi i principali temi discussi a viso aperto nell'assemblea cui hanno preso parte attori, registi e operatori. I lunedì della cultura proseguiranno con l'anno nuovo anche nelle sedi delle municipalità cittadine.